A Ostia da domani a lunedì nell'ambito della festa patronale in programma per il fine settimana sarà chiusa il traffico via Vannutelli da piazza della stazione Vecchia a via Cardinal Ginnasi. Con la chiusura saranno anche deviate sette linee bus, l'elenco in dettaglio è sul sito muoversiaroma.it e sempre da domani a Centocelle si apre un cantiere sulla rete del gas in piazza dei Gerani. Per questo sino al 29 settembre la capolinea della 552 sarà arretrato su Viale delle Gardenie nel tratto compreso tra via delle Campanule e via dei Rododendri. Ultimi giorni per la settimana europea della mobilità e proprio oggi la Polizia di Stato ha inaugurato la giornata europea senza morti sulle strade. L'iniziativa è promossa dalla rete delle polizie stradali di tutta Europa. Da quest'anno, ogni 21 settembre, la Polstrada effettuerà ulteriori iniziative per prevenire le principali cause degli incidenti a partire dalla velocità e dall'uso dei telefonini durante la guida. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.